Il Possaccio non sa più vincere. Nella prima del girone di ritorno, che non rispetta la tempistica dell'andata, Verbanesi battuti in casa dall'Enrico Millo. È evidente che il team di casa naviga in un cattivo periodo, forse il primo degli ultimi due anni. Il lungo riposo causa lo stop per Covid imposto dalla Codognese, non è bastato a guarire le ferite. Anzi, l'ultima vittoria del team caro il presidente Mazzolini risale al 5 marzo contro Fossombroni. Poi la sconfitta interna con Boville, il pari fuori casa contro Enrico Millo e infine questa nuova battuta del resto con gli stessi avversari. Tosi sceglie una terna con il puntista Signorini, il gioli centrale Mazzolini e il tiratore Andreani. Il primo set è dei Verbanesi per 8 a 4. Nell'individuale Giovanni Scicchitano gioca un primo set da campione e chiude con un perentorio 8 a 0. A quel punto nulla lascia prevedere un pomeriggio tribolato. E invece? Invece Scicchitano in vantaggio anche per 7 a 1 trova un Raffaele Ferrara disperato ma non domo che lo rimonta e incredibilmente vince 8 a 7. Il secondo set della terna dura un'eternità ma i troppi errori al tiro costano carissimi ai Verbanesi. Gli ospiti vincono 8 a 4 e portano all'intervallo un inatteso 2 a 2. In coppia si schierano da una parte Paone con Andreani al tiro e dall'altra Signorini con Scicchitano. Per i primi due non è giornata. Perdono il primo set rimontati da Santoriello e Noviello 6 a 8 e lo stesso risultato negativo ahimè lo rimediano anche i nostri porti calori sul campo accanto. Dunque Enrico Millo si trova in vantaggio per 4 a 7 a 2. Signorini e Scicchitano si riscattano nella seconda partita e vincono 8 a 2 ma sul campo vicino nulla da fare per Paone e Andreani che poco dopo perdono di nuovo per 6 a 8. Quindi 5 a 3 finale per i Salernitani. Partita con un bel pareggio fuori casa la stagione della squadra femminile. Un 4 a 4 contro la San Martinese. Non c'è terna. Si gioca in individuale e in coppia. Lomazzi ed Elena Ceriani vincono entrambe le prime sfide mentre nell'individuale Martina Ceriani perde due volte dall'appesavento. Il DT Aralossi cambia le coppie. Con la Ceriani gioca Maria Grazia Guazzoni. Le due vincono entrambi i set. Non va altrettanto bene all'altra coppia con Bilomazzi. Battuta 8 a 5 e 8 a 4. L'appesavento nel frattempo migliore in campo. Ora per tutti la pausa pasquale.